Silvano Gattari, segretario provinciale di CNA Macerata, la tutela del Made in Italy è una battaglia che la CNA porta avanti da tempo. Di recente il Consiglio europeo ha rinviato all'anno prossimo, al 2015, l'approvazione del Made in, nell'indicazione di origine per i prodotti. Si tratta di una sconfitta? No, una sconfitta non credo perché è un rinvio, quindi speriamo che in qualche maniera poi la ragione prevalca anche successivamente. Non c'è dubbio che ci sono delle forze molto forti, delle multinazionali molto forti, che ovviamente stanno lavorando alacremente per impedire l'affermazione del Made in Italy. Che credo sia un diritto non solo degli imprenditori, ma credo proprio prima di tutto ancora, prima ancora che degli imprenditori che valorizzano attraverso il loro marchio appunto le proprie produzioni, siano per i consumatori, perché avere la certezza di comprare un capo o d'abbigliamento, qualcosa dell'auroalimentare o un paio di scarpe e sapere da dove proviene chi l'ha fatto, credo che sia un diritto assoluto dei consumatori. Quindi la prima sconfitta credo che sia quella proprio dei consumatori. E infatti parlando proprio di sicurezza per i consumatori, in cosa consiste in pratica la certificazione, questo Made in, nel nostro caso nel Made in Italy? Il Made in significa dare garanzie assoluti attraverso un protocollo e quindi la possibilità di verificare tutte le fasi di produzione, che il prodotto, qualunque questo sia, sia di tipo alimentare che ovviamente manifatturiero, sia interamente fatto in Italia, quindi rispettando ovviamente le norme, le procedure che esistono in Italia per la produzione appunto di sia prodotti alimentari che manifatturieri. Questa è assoluta garanzia dai consumatori. Io faccio solo un esempio, insomma, quando si dice ovviamente che questo non è che, come dire, mette in conflitto rispetto ad altre produzioni. C'è solamente la necessità di avere la consapevolezza che quel prodotto costa di più e perché c'è un marchio che è quello del Made in Italy, che è un marchio che credo sia il terzo marchio più cliccato su Google al mondo, dopo la Coca-Cola e dopo la Visa, quindi è evidente che c'è un suo fascino e c'è una sua capacità di vendere. Ovviamente perché dietro a questo marchio c'è la consapevolezza che questo prodotto sia fatto in Italia con le caratteristiche italiane, con la cultura italiana, con il territorio italiano. Quindi questa è una garanzia. Allora, sapere che poi c'è un paio di scarpe che uno vuole comprare perché è bello, ma ci deve essere scritto dove sono state fatte. Se sono stati fatti in Italia, c'è il suo valore perché Made in Italy, se sono fatti da altre parti, uno tranquillamente ne può acquistare, ma consapevolmente rispetto al paese di produzione.